E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui con una nuova top 5 delle vostre configurazioni Finalmente i nuovi episodi Sì, siamo un pochettino in ritardo Le richieste per le top 5 sono veramente tantissime Ho dovuto cercare su circa 800 postazioni quasi ogni mese O mille qualcosa quando va peggio Anzi, meglio in realtà Nella descrizione ci sono tutte le regole per partecipare Questa è una serie, come ripeto in tutti i video, è un disclaimer Questa è una serie che appunto serve per andare a dare dei piccoli consigli O comunque di andare a vedere insieme i setup Se do un occhio un pochettino più critico è perché appunto voglio darvi dei consigli, dei suggerimenti E stessa cosa faccio su AgriSetup Quindi inutile ripeterlo in ogni video E niente, iniziamo subito con le prime postazioni Bene ragazzi, prima di iniziare il video non mi prolungherò su questo discorso Perché magari faremo un altro video Molti negli scorsi commenti quando avevo detto per il fatto del coronavirus Comunque del virus che c'è adesso in circolazione Mi raccomando, state veramente attentissimi Prendete tutte le misure di sicurezza, è veramente importantissimo Ne parleremo comunque in un altro video Situazione veramente delicatissima E niente ragazzi, partiamo dalla quinta postazione Allora, questa postazione è veramente molto minimalistica Molto piccola, direi, se non troppo È stata inviata da Carlo che ha 12 anni E mi ha detto ti voglio presentare il mio setup Ryzen 7 37, 16GB di RAM Il monitor Dell U3415V La Ducky One 2 Mini, spettacolo G-Wolf's Call per quanto riguarda il mouse Samsung Meteor il microfono E le cuffie Logitech G935 Iniziamo subito dalla scrivania Allora, per quanto riguarda la scrivania Sembra una Linmon, normalissima Con un Alex in basso a sinistra Possiamo vedere in questa foto qui Dove c'è anche la sedia Questa è una sedia, diciamo, sembra abbastanza comoda Però, non so, magari posizione forse troppo bassa Per la postazione Non lo so, sembra comoda Però non l'ho mai provata una serie del genere Ok, per quanto riguarda invece il cable management Hai pubblicato solamente questa foto qui Non si vede un granché, sinceramente Boh, sembrano abbastanza sistemati i cavi In realtà non c'è tantissimo per quanto riguarda periferiche Però, sì, un buon lavoro Magari una foto fatta dalla parte inferiore della scrivania Era ben accetta Comunque, vi ringrazio comunque a quelli che inviate alle postazioni Che inviate veramente le foto giuste Sono 5 foto Vedrete tutte le regole in descrizione Per quanto riguarda il PC Ti aggiudichi il best PC La best configurazione Il case è molto semplice Nulla di che Le componenti sono ottime Abbiamo un Ryzen appunto come ho detto prima La 280 E qui possiamo vedere queste due foto del PC Invece per quanto riguarda le periferiche Abbiamo la Ducky One 2 Mini Eccola qui Fantastica Bellissima E qui abbiamo il mouse Con illuminazione LED RGB Nella parte inferiore Per quanto riguarda le luci Abbiamo le luci della postazione E una striscia LED Sembra sia sul monitor Sia per quanto riguarda Tutta la scrivania Nella parte inferiore della scrivania Infatti si vede la luce anche davanti Pensavo peggio comunque Perché i LED nella parte anteriore della scrivania Non mi piacciono tanto Però qui diciamo che ci sta Anche se è molto intensa la luce Invece di altre periferiche Come ho detto prima C'è il microfono E lì possiamo vedere Impiantino Bose Leil pose Un tappetino Che comunque non mi piace tantissimo Come colore Però vabbè ci sta È molto bellina Molto piccola Non so con la serie Come ci starà di sotto Perché il tavolo superiore È piccolo Però tutto sommato Hai fatto un'ottima postazione Io magari avrei consigliato Di aggiungere Per quanto riguarda L'Alex Un pochettino più a sinistra Per lasciare più spazio Magari nella parte inferiore Per avere più spazio nei piedi Comunque del resto ci sta Ottima postazione Complimenti per il quinto posto Bene adesso andiamo da Davide Con 14 anni E la mia posizione è la tecnologia E ad agosto con i miei risparmi Sono riuscito ad assemblarmi Questo pc setup La mia scrivania ha avuto Molti aspetti Ma questo è quello Che mi piace di più E spero lo sia anche per te Nulla complimenti Veramente Sei veramente giovanissimo Ed ecco qui La prima foto del setup Fantastica È molto semplice Una cosa che mi è piaciuta Tanto è il cable management Ecco questa è una scrivania Integrata con il mobile Appunto qua con l'armadio È fantastica È una scrivania comunque Tondeggiante Per quanto riguarda la sedia Abbiamo una sedia dell'Ikea Eccola qui Fantastica Costa circa una quarantina di euro La famosa mia prima sedia Ikea Per quanto riguarda il cable management È semplice Non c'è tantissima roba Però comunque fantastico Per quanto riguarda il pc Eccolo Eccolo qui Qualità prezzo Un alimentatore a 550 Ok per quanto riguarda le periferiche Abbiamo anche un volante G29 Con pedi all'era e cambio Per quanto riguarda il simulatore Ecco E c'è un altro Proprio un'altra scrivania Per il simulatore Fantastico Mi piace Tra l'altro A giorni dovremo mettere In sesto il mio di simulatore Non vedo l'ora E ho qui Cuffie della Play E poi Credo che sia La tastiera della Uki È un mouse Logitech Infatti abbiamo Mouse Logitech G402 Tastiera Uki 88 tasti Per quanto riguarda le luci Abbiamo una lampada In alto Che sembra la lampada di Ikea E una striscia LED Classica Nel retro della postazione Del resto Come altre periferiche Non abbiamo Nient'altro di particolare A parte l'impiantino 2.1 E Gli pad Della Playstation 4 Piantine Eccetera E nulla Un ottimo setup Complimenti per la quarta postazione Se farai magari dei miglioramenti Aggiungili E magari verrai proposto Per il prossimo episodio Ok arriviamo alla terza postazione Rimaniamo sempre nel minimalismo Ecco Diciamo con questa terza e quarta postazione Abbiamo una postazione Molto molto simile Mi è piaciuto tanto Mi chiamo Salvo E ho 16 anni E sono di Catania Questa è la mia postazione Molto minima Spero che ti piaccia Composta da Ok iniziamo subito Dalla scrivania Beh una scrivania Sempre data insieme ai mobili Molto semplice Molto ben curata Ben Cable management Veramente assurdo La sedia Eccola qui La sedia della Cooler Master E poi Cable management Ti aggiudichi il best Cable management Era indeciso Tra la quarta e la quinta E la terza postazione Però questa In realtà Nella parte superiore Non si vede tantissimo Sì c'è anche da dire Che mouse e tastiera Sono wireless E quindi questo Fa anche qualcosa Però nella parte superiore Assolutamente non si vede nulla Sembra tutto wireless Complimenti È molto semplice Non ha il pc Ha solamente un pc portatile Fantastica La playstation 4 È veramente ben gestita È proprio un inizio Un punto di lancio Appunto per un'ottima postazione Magari quando aggiungerai Un pc fisso E tutto il resto Per i feri Abbiamo mouse e tastiera Trust Di cui non so il nome So che non sono il top Ma io utilizzo il pc Solo per navigare su internet E scrivere in word Non per giocare Quindi per il momento Non è necessario acquistare Prodotti migliori Ok Per quanto riguarda invece Le luci Abbiamo la classica striscia led Nella parte posteriore Della scrivania Che crea un'ottima atmosfera E bello anche il desktop Il desktop comunque Nelle top 5 È una cosa da non sottovalutare Perché crea appunto Una continuità Con lo sfondo Come potete vedere Pure dal mio Dal mio sfondo Bene Adesso arriviamo Alla seconda postazione Che Giacomo ci presenta Questa postazione Questa è la mia postazione Che utilizzo normalmente Per i gaming E vedere film La scrivania È una tipologia di scrivania Che non mi piace tanto Non è tanto rifinita Perché credo che Questa parte superiore Dove ci sono i monitor Casse e pc Credo sia stata fatta a mano Sembra molto rudimentale Ecco Però riuscire a modificarla Ancora di più Colorarla magari E cioè Verniciarla eccetera La sedia Ecco qui abbiamo Una sedia da gaming La classica sedia da gaming È una DoWing Sì in pelle Con massaggio Supporto lombare Fantastico Mai provata Una sedia con il massaggio Per quanto riguarda Il cable management Non mi è piaciuta tantissimo In realtà Ci sono questi cavi Rossi e neri Questi sono probabilmente Per le casse Poi qui la striscia Qui non è Abbastanza diciamo Sistemata E non lo so Non mi ha convinto tantissimo Qui nella parte inferiore Dai ci sta Alla fine è carino Quella sarà la parte Dove c'è appunto L'altro mobile Quindi alla fine Non si vede Un'altra ciabata Ah ecco Questa parte qua Qui non è Non è aggiunto nulla Non so perché Magari forse tirava il cavo Quindi non l'è aggiunto Però vabbè dai Un ottimo lavoro Per quanto riguarda Il pc Ryzen 3 3200 Una GTX 1060 32 giga di RAM E un ottimo pc Abbiamo anche SSD Hard disk E eccetera Un ottimo pc E dice Per pc gaming E vedere film Mouse gaming wireless Tastiera meccanica Trust GXT Cuffie Corsair Void Pro RGB wireless Supporto cuffie Corsair Petino XXL Della CMHO Non so E monitor curvo C27H711 Della Samsung Che è 2K 1440p Ecco Chiamato volgarmente 2K Per quanto riguarda le luci Ottima illuminazione RGB Nient'altro E l'illuminazione comunque Del pc Fantastico secondo posto Complimenti Se farai dei miglioramenti Appunto come la verniciatura Della parte superiore Del tavolo Comunque aggiungili E sarò felice di Dimostrarli E beh ragazzi Arriviamo alla prima posizione Mi è piaciuta tantissimo Per quanto riguarda La qualità delle foto Per quanto riguarda Anche la semplicità Ed è diversa Ha qualcosa di diverso Rispetto a tutte le altre postazioni E possiamo vedere qui Una panoramica frontale Veramente molto molto bella Molto stile Con quell'adesivo Sulla sinistra Con i pianeti Quel cartello stradale Diciamo con la bici E tutto il resto E' veramente ottima Mi piace tanto Peccato per il monitor rotto Sulla destra Però vabbè Si vede la parte superiore Alla fine l'hai tenuto lo stesso Del resto Comunque è un'ottima Veramente un'ottima postazione Allora per quanto riguarda La scrivania Rimanendo sempre su questa foto Due Alex bianchi Una cassetta E una danta E un piano carby Tutto ovviamente Ikea Gli Alex sono fantastici Ragazzi Io li ho montati Li avete visto nello scorso video Sono veramente fantastici Li consiglio tantissimo Anche se costano Hanno un costo importante Però Qui abbiamo una sedia Questa credo che sia Una sedia economica Di Amazon Se non erro Comunque Non ho detto chi è Si chiama Francesco A 16 anni E' un appassionato di fotografia Video editing Ma mi piace anche Giocare ogni tanto Ci dice Questa è la sua configurazione Stile minimal Ma allo stesso tempo Accogliente e moderno Dove poter lavorare al meglio E ci sei riuscito Appieno Ah ho due monitor Uno di questi Meno di una settimana fa L'ho rotto Lanciandogli Gli auricolari contro Questo è un 24 pollici 134Hz curvo di Samsung Lo uso principalmente Per la lista Di clip su Da Vinci Programma di editing Fantastico Grande Grande Che usi Da Vinci Quando gioco Per Discord Oppure per Spotify Il monitor principale Ultra wide E' sempre Samsung Ma a 2K Da 34 pollici E 60Hz Come tastiera Ho una Corsair Invece di tenerla A luci spente Poiché non sono Un amante Gli RGB Ok per quanto riguarda Il cable management Ha detto che ha utilizzato Queste clip Che sono veramente fantastiche Adesso vediamo qualche Ecco qui ragazzi Questo è veramente Best cable management Però essendo che qui Abbiamo il beige Della top configurazione Include anche Il best cable management Veramente un ottimo lavoro Guardate qua Questa foto Nella parte frontale Non si vede assolutamente Nessun cavo Veramente ottimo Complimenti Qui nella parte posteriore Si vede qualche cavo Però è qualcosa di minimo Diciamo Essendo che ci sono Due monitor E tutto il resto È ottimo Qui sulla destra Se voglio dire qualcosa C'è l'alimentatore del monitor Però non possiamo farci nient'altro Nasconderlo Sembra quasi impossibile Il PC È un case NZXT Molto semplice All'interno Dell'Alex Non so Secondo me Non respirerà tanto Probabilmente aprirai Quando dovrai Accendere il PC Però Non è molto comodo E non è molto Salutare per il PC Magari Ti consiglio di fare un foro Nella parte inferiore E parte laterale Che magari non si vede Per aumentare L'ailflow O aggiungere due ventole Non so Inventati qualcosa Perché sicuramente Al PC non fa bene Ha un i5 7004 16 GB di RAM E una 1050 Ti Da 4 GB Poi SSD Hard disk Eccetera Per quanto riguarda Le periferiche Abbiamo una Corsair K55 RGB Tavoletta Wacom E mouse Harpoon Wireless Sempre della Corsair Abbiamo un microfono Di AMA È un microfono Dice che non è il migliore Al mondo Però per quello Che gli serve Va bene Ha un hub Con 3 port USB E 2 per leggere Schede SD Per quanto riguarda Le luci Abbiamo la lampada Sulla sinistra Che crea un'ottima atmosfera Molto minimale Mi è piaciuto Dà quella sensazione Di calore Come per esempio Anche la scrivania Dà quella sensazione Di accoglienza Ecco che è fantastica Dice non ha piante Finte in camera Ma le due Sulla mia scrivania Sono un edere E un'orchidea Senza fiore Lampada Ikea Echo Dot Che usa come sveglia Per mettere musica Da Spotify Sì miglioramenti Non ce ne sono da fare A parte comunque Il monitor che è rotto Però vabbè Alla fine è utilizzabile E come magari Quello più in avanti Si può cambiare Un'ottima postazione Mi è piaciuta tantissimo Anche la luce Comunque molto Luce soffusa Che crea Quella tenda Sulla destra Complimenti Per la prima postazione E niente ragazzi Finisce qui Questo episodio Spero che vi sia piaciuto Grazie per tutti Grazie per tutti quelli Che hanno inviato Le postazioni Ma non Non demordete Fate dei miglioramenti E ripostatele E magari per il prossimo mese Le noterò Ecco Inviatele E cercherò comunque Di sceglierle Se saranno All'altezza Della top 5 Per il prossimo mese E niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Con tutte le notifiche Per seguire nuovi episodi E ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao